Buongiorno, sono Giovanni Pasquarello, amministratore della STP Service, una società di progettazione impianti elettrici, condizionamento, sistemi tecnologici e rete FTTH che nasce nel 2003 a Caserta. Nel 2008 ho aperto la prima sede su Napoli. Siamo passati da due dipendenti a momenti dipendenti con due sedi su Napoli, una in provincia di Napoli e un'altra sede a Caserta. Nel 2016 abbiamo intrapreso un percorso molto importante, la progettazione della rete FTTH a livello nazionale. In poche parole progettiamo la fibra ottica per tutti gli italiani. La nostra attività non si svolge solo in ufficio ma anche in campo e abbiamo personale disperso per tutto il territorio. Noi progettiamo in Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia, Lombardia. Veramente copriamo tutta la rete nazionale. Questo comporta che ogni mese abbiamo costi non solo di ufficio ma anche costi di trasferte, costi di pernottamenti e carburante. I nostri clienti ci pagano ormai con completamento delle attività a sei mesi, quindi significa che abbiamo, come altre società che fanno la stessa nostra attività, problemi di liquidità. Siamo clienti di System da prima della fatturazione elettronica con fatture in cloud. Un esperto di System ci ha contattato e ci ha russato la piattaforma in cassa subito. Da subito ci è sembrata un'idea che faceva proprio al nostro caso, era proprio qualcosa che ci serviva per la liquidità dell'azienda e abbiamo sottoscritto il primo contratto. Dopo quattro giorni siamo riusciti a caricare le prime fatture da cedere e in quinto giorno abbiamo ricevuto il pagamento delle fatture precedute. Abbiamo da lì iniziato un percorso che è diventato sempre più veloce, con una flessibilità del pacchetto in cassa subito che non è pari alle banche. Noi attualmente possiamo decidere di anticipare le fatture che vogliamo di un cliente, non siamo domicolati a dover cedere fatture di più clienti, quindi possiamo fidelizzarci anche con un unico progetto. Di questo progetto possiamo decidere le fatture da anticipare e quelle che invece non vogliamo anticipare e riusciamo in quattro giorni a ricevere direttamente sul nostro conto corrente l'incasso delle fatture anticipate. Noi possiamo suggerire in cassa subito anche a tutti gli altri nostri partner perché effettivamente è un prodotto che quello che pubblicizza realizza. Grazie a tutti.